siccome nei nostri video parliamo di ci riferiamo alla bibbia in particolare vorremmo dare indicazioni per casomai vorreste verificare leggere il contesto delle cose dei riferimenti che noi diamo e vi consigliamo di usare una pagina web che si chiama la parola punto net perché contiene una raccolta delle scritture ben organizzate con dei motori di ricerca che permettono sia di trovare diciamo le parole all'interno di un certo testo sulla destra oppure di trovare intendi brani per esempio se uno sa già qual è il riferimento del brano che vuole leggere lo può scrivere a sinistra quindi diciamo funziona molto bene a tutte le versioni perché la bibbia ha tante traduzioni quindi uno potrebbe riferirsi a una piuttosto che all'altra quindi noi in genere usiamo questo programma per diciamo estrarre dei riferimenti biblici e usiamo la nuova riveduta che è la più diciamo accettata ecco invece per quanto riguarda l'interpretazione risulta ovviamente noi non abbiamo inventato niente ci rifacciamo alle interpretazioni estratte dagli studi di Mauro Biglino per esempio a completamento di altri che prima di lui hanno affrontato questo argomento e quindi c'è questo è uno dei libri principali e l'unica cosa di questo libro che ci siamo resi conto che ha il titolo sbagliato quindi ce ne siamo resi conto leggendo il dialogo di Timeo e Crizia perché andiamo nel dunque Dio è la traduzione quindi il libro dice la bibbia non parla di Dio Dio è la traduzione di Theos greco che è singolare di Theoi ora dalla lettura dei dialoghi di Timeo e Crizia specialmente ma anche da altri testi risulta chiaro che loro quando parlavano di Theoi sapevano di cosa stavano parlando e non si riferivano al creatore lo si capisce leggendo la disquisizione cosmologica di Timeo che è una parte dei dialoghi che si riferisce in modo differenziato al creatore di tutte le cose e per esempio la massoneria lo chiama il grande architetto la chiesa in parte cade in questa trappola e lo chiama Dio padre quindi come che fosse uno dei tanti che però si chiama padre quindi per assurdo sembra che questo il primo passo del credo ricade nel politeismo già appena inizia a parlare di monoteismo anche questo entra un pochettino nel nel discutibile poi non si allarga più di tanto dice creatore del cielo e della terra ma neanche di né di tutte le cose dell'universo non allarghiamoci troppo quindi credo in Dio padre creatore del cielo e della terra ecco non allarghiamo il campo di di speculazione e quindi diciamo secondo questa diciamo lettura più attenta la Bibbia parla principalmente del Teoi Yahweh quindi parla di un Dio quindi andrebbe aggiornato in qualche modo questo titolo e quindi noi andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando in questo momento dell'Apocalisse perché esiste l'Apocalisse perché noi leggiamo l'Apocalisse nella Bibbia e la cosa non fu priva di non suscitò molte discussioni al concilio di Nuceo perché questo testo era strano insomma anomalo infatti ci sono tante apocalissi apocrife che non hanno preso posto nella Bibbia il problema qual è che è un testo che si può definire a convalidazione forte dell'autore perché perché ha un diciamo un autore che si dichiara cosa non sempre diciamo perché c'era l'abitudine che c'erano sì gli autori si dichiaravano con nomi altisonanti per essere ascoltati o accreditate qui abbiamo un autore che ha fatto una cosa particolare ha mandato sette copie di questo testo a sette comunità cristiane dell'Asia minore e a ognuna ha scritto delle cose che lo hanno fatto identificare cioè come che lui sapeva delle cose di questa comunità e diciamo per cui non era facile sostenere che l'autore potesse sapere tutte queste cose perché poi al concilio di Nicea si svolgeva nell'Asia era preseduto dall'imperatore Costantino e sono arrivati i rappresentanti di questa comunità quindi quando si sono ritrovati era difficile sostenere che un autore falsificatore potesse sapere tutte quelle cose quindi non hanno potuto che accettare questo testo ecco vediamo perché l'hanno accettato sono stati incastrati e obbligati perché vediamo tecnicamente che cos'è questo testo ecco in questo video noi raccontiamo cosa succede in questo momento in Brasile il fenomeno della medianità ma non è che succede solo in Brasile succede in tutto il mondo ma in Brasile è entrato nel senso comune e nella quotidianità delle persone la medianità quindi è una cosa più che normale che delle persone ricevano dei messaggi da altre dimensioni da non si capisce a volte sono messaggi da persone decedute altre volte da extraterrestri fino all'ultimo grido che viene detto trascomunicazione strumentale ci sono in tanti che per evitare il problema dei medium che a volte potevano improvvisare in mancanza di un reale contatto stanno usando degli apparati radio sia su computer che quindi diciamo il fenomeno in forte evoluzione quindi diciamo che uno avesse ricevuto una visione avesse avuto una visione è una cosa ritenuta di totale normalità si chiama canalizzazione quindi Giovanni ha ricevuto una canalizzazione se voi dite questa cosa in Brasile nessuno si stupisce ci sono le librerie piene di libri in cui c'è un redattore che è un medium e l'autore che sono personaggi anche altisonanti che sono Paolo di Tarso deceduti quindi le librerie del Brasile sono piene di libri scritti da deceduti oppure ci sono ora si è presentata la categoria degli extraterrestri ma diciamo ci trovavamo al concilio di Nicea in cui si è stabilito questo leggiamo il credo credo nello spirito santo che il signore della vita procede dal padre dal figlio e come il padre il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti quindi che cosa si sta dicendo che lo spirito santo che anima i profeti è Dio quindi è una manifestazione di Dio e da considerarsi come una materializzazione di Dio quindi c'è il padre che si manifesta nel creato il figlio che è una figura umana e lo spirito santo che si manifesta attraverso una illuminazione e parla attraverso i profeti e quindi diciamo la parola dei profeti allora essendo Giovanni una figura di riferimento nel cristianessimo è stato elevato alla dignità di profeta insieme ai profeti dell'antico testamento quindi questo scritto non poteva essere escluso quindi veniamo invece alla nostra prospettiva noi diciamo che l'apocalisse parla di un'invasione aliena e perché perché diciamo noi citiamo un pazzo in particolare che l'atto finale di questa apocalisse è una drastica drastica riduzione della popolazione della terra a mezzo di mezzi che sembrerebbero tecnici potrebbero essere assimilate dei carri armati quindi e questo rientra nella nostra visione del mondo in cui gli extraterrestri hanno dato modo di svilupparci per estrarre oro per il loro posto ora siamo un problema quindi secondo l'apocalisse al loro ritorno riducono drasticamente la popolazione e come? In vari modi ci sono i cavalli dell'apocalisse i cavalieri che ognuno di loro porta un guaio, un problema sarebbe la guerra, la carestia e le epidemie cose che sono state riscontrate in passato sempre in concomitanza del passaggio del distruttore quindi a tutti gli effetti si tratta di un'invasione aliena ecco e invece questo il fatto che i profeti parlassero del creatore, non possiamo usare il nome Dio del creatore del cielo e della terra o di tutte le cose materiali e dobbiamo smentirlo perché in questo filmato Giuseppe e Flavio a starare del tempo di Gesù si risulta chiaro che i profeti annunciavano il ritogno di questi extraterrestri al centro del passaggio del distruttore quindi il distruttore è lo strumento con cui loro dicono noi siamo i padroni della terra chi è che si può mettere contro di noi quindi a questo punto questo credo di Nicea andrebbe rivisto perché i profeti annunciano gli extraterrestri e qui prenderemmo uno dei tanti roghi se fossimo nel Medioevo sarebbe l'ennesimo rogo che ci aspetterebbe per aver detto una cosa altamente eretica quindi noi sottolineiamo che i profeti parlano del ritorno di questi extraterrestri compreso Giovanni quindi dire che parlano del creatore hanno dato voce al creatore di tutte le cose è una cosa che sembrerebbe impropria quindi nel film Giuseppe e Flavio asteroidi alieni ai tempi di Gesù la prospettiva si aggiorna non invasione aliena qui cambia la prospettiva loro sono a casa loro ritornano a casa loro quindi quando tornano a casa loro realizzano quello che hanno promesso ad Abramo che daranno ai suoi discendenti tutti i territori dal fiume di Egitto che sarebbe il Niro fino alle Urrate quindi in Genesi 15 ribadiscono che loro casa loro è questa quindi tra il Nilo e l'Eufrate quindi qui lasciate stare e la nostra zona elincando tutti i popoli che ci sono qui adesso non è facile quindi abbiamo dovuto aggiornare non più un'invasione aliena gli extraterrestri che prendono possesso dei loro territori perché a quanto pare loro a momenti scompaiono e a momenti riappaiono e qui c'è una playlist che raccoglie tutte le ragionamenti i riferimenti che danno diciamo sostegno a queste tessi e quindi abbiamo formalizzato tutti questi concetti in questo video che fa parte della playlist una fine del mondo spiegata scientificamente quindi compreso il motivo per cui non sono passati nel 30 perché hanno deciso di far sviluppare l'umanità quindi che cosa ne desumiamo che in questo video desumiamo che il distruttore è come un orologio che regola i cicli i loro cicli di lavoro e quindi l'Apocalisse racconta il prossimo ciclo di lavoro quindi portiamo sia il calcolo di questi cicli che diciamo dimostrazione riferimenti scritturali che supporterebbero queste ipotesi quindi vediamo quali sono i punti che ci sono cicli di lavoro regolati dal distruttore quando ritorno prendono possesso del centro direzionale tra il Nilo e le Eufrate abbiamo scritto centro direzionale perché in realtà hanno tante miniere quindi sono divisi in tante famiglie che operano in vari posti gli israeliti sarebbero il popoletto sono incaricati di occupare e dirigere questi territori quindi a casa loro loro vogliono solo israeliti o ospiti ma non è chiaro chi ci può andare quando e come allora questi israeliti hanno questo incarico o almeno lo avevano ai tempi di Gesù non è chiaro se questo incarico gli è stato confermato perché esiste una teologia cosiddetta della sostituzione di cui il Vangelo diciamo è un forte artefice no gli ebrei si sono comportati male ora tocca ad altri quindi sono altri popoli altri quindi poi possiamo vedere possiamo ritrovare questa teologia della sostituzione in giro nel Vangelo ed è la base un po' anche della cristianità la Chiesa ha sostituito Israele e qui entra la nostra ipotesi che desumiamo da una serie di di letture di scritture varie sia quelle mesopotamiche che quelle che loro quando ritornano fanno una cosa particolare rastrellano l'oro che noi abbiamo prodotto e come creando una grande carestia questa grande carestia costringerebbe tutti a comprare il cibo da loro quindi una carestia parliamo di siccità e quindi abbiamo portato delle diciamo prove che loro fanno questa cosa hanno fatto nel passato qualcuno ci ha sottolineato che le nostre ipotesi erano troppo fantastiche prive di appoggio e anche qui bisogna fare una premessa ma perché loro hanno il cibo perché lo fanno nelle loro zone quindi nelle loro zone fanno producono il loro cibo il cibo che poi usano come merce di scambio e quindi nelle loro zone tra il nire e le eufrate ci sarebbe e come lo producono perché hanno degli impianti di desalinizzazione e che avrebbero iniziato a mettere in funzione e quindi le operazioni dell'isis sarebbero una copertura per questa rimessa in funzione di questi impianti ecco mentre qualcuno ci criticava abbiamo trovato parte di queste diciamo impianti di desalinizzazione la parte che secondo noi i tubi che dovrebbero condensare il vapore perché questi impianti come funzionerebbero portano l'acqua del Mediterraneo in giro sotto il deserto poi con delle trivellazioni la mandano in profondità dove c'è alte temperature e genera vapore che risale e si condensa in questi in questi tubi perché questo che noi vediamo facciamo vedere in questi tubi sono dei tubi diciamo sembrerebbero dei tubi però chiaramente ogni video ha le coordinate qui siete voi che dovete decidere se questa diciamo ipotesi è audace allora subito abbiamo ricevuto il primo tipo di critica e siamo in Siria siamo ai confini con l'Iraq cosa merita chissà cosa combinano questi americani o qui non si sa chi per cui abbiamo ampliato la ricerca e abbiamo trovato una serie allora sono militari allora ne abbiamo trovato in Arabia e in Giordania quindi ora si sono messi tutti d'accordo a fare giochi di disegni strane spirali diciamo che questa cosa ma a questo punto parallelamente ci siamo spaventati perché questa qua non è più una cosa una ricerca bibliografica qui andrebbe segnalata e quindi se voi guardate i video ci siamo fermati per un lungo tempo vedete qualche battuta che abbiamo fatto a un nostro amico che commentava si chiama Pio Yang mandiamo un appello Pio Yang se ci sei torna a commentare non era il problema non ce l'avevamo con te è solo che ci siamo spaventati e abbiamo esplorato la strada di comunicare queste cose delle autorità ma non ci siamo riusciti vi garantisco che le abbiamo provate di tutti i colori cioè sembrano cose ma non è mia competenza ma nessuno si va a mettere in un guaio del genere a sostenere una cosa del genere quindi sta di fatto che abbiamo deciso che la cosa migliore era continuare a condividere con la comunità questi dati quindi Pio Yang puoi continuare a tornare a commentare sei graditissimo come commentatore non era quello il problema quindi sostenuti da questi riscontri che voi potete toccare con mano vi garantisco che partendo da questi punti che noi vi segnaliamo vi potete allargare di molto e troverete sempre di queste griglie di tubi che secondo noi servono a condensare e noi abbiamo trovato inseguendo le zone dove vanno gli ISIS che quindi a questo punto sarebbero sbarcati quando hanno trasmesso le emissioni di cannetto di caronia e a questo punto c'è una questione entriamo nel tema di oggi dei microchip queste ipotesi si va a raffrontare con un problema se le persone hanno soldi e loro producono cibo le persone danno soldi in cambio di cibo e loro se ne fregano niente dei soldi vogliono l'oro quindi noi abbiamo ipotizzato che ci possa essere una grande svalutazione che fa uscire di scena la moneta diciamo cartacea e avremmo trovato un passo che diciamo sembrerebbe appoggiare questa idea quindi che cosa vediamo adesso non entriamo nel particolare delle bestie anzi se vogliamo commentate pure dite la vostra interpretazione nei commenti è ben gradita ma qui abbiamo una bestia con tante teste che noi interpretiamo che siano i poteri che loro hanno nella terra quindi poter essere poter religioso poter militare eccetera eccetera una di queste teste è ferita a morte e noi interpretiamo che questa è una grande svalutazione che quindi che succede che un personaggio ridà valore alla moneta quindi qui dobbiamo fare un piccolo inciso come funziona la moneta la moneta fino a un certo momento era convertibile in oro quasi tutte le monete erano convertibili in oro quindi le banche centrali avevano un deposito di oro e emettevano moneta che garantiva al portatore che presentando quella moneta avebbe avuto in cambio un certo peso di oro un equivalente valore in oro a un certo momento diciamo sulla scena economica apparve un tal Keynes che scoprì che c'era un rapporto tra disoccupazione e svalutazione quindi più era alta la svalutazione e meno era la disoccupazione il motivo secondo lui era che con un'alta svalutazione le persone non tenevano i soldi sotto il materasso e quindi l'economia girava per cui diciamo è stata una cosa generale a un certo punto si è abolita questa convertibilità quindi se voi avete dei soldi andate alla banca centrale per esempio europea non vi danno un bel niente se per caso c'è una svalutazione dicono povero fesso che ti sei preso questo pezzo di carta pensando che valesse qualcosa non ci sarà nessun ce lo hai e te lo tieni è rimasta la frase pagherà al portatore ma forse ora anche scomparsa e quindi da questo momento è stato le monete hanno corso il rischio di essere svalutate e si sono svalutate in giro per il mondo io conosco il caso brasiliano per esempio tramite Tatiana e ha avuto diverse svalutazioni 3-4 monete che si sono di volta in volta azzerate e sostituite da un'altra quindi diciamo che sorgerebbe questo personaggio che alcuni dicono che è l'anticristo dopo che si sono fatti i fatti loro rimette a posto la moneta quindi ristabilisce la compartibilità quindi tutta la terra corre dietro a questo diciamo mister me la vedo io che però qui subentra il microchip che lui ha un simbolo e chiunque non usa il suo simbolo non può né comprare né vendere quindi non può entrare esce dal circuito economico se non ha il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome qui è la sapienza che orecchie per intendere intenda chi no in roulotte come si dice quindi che cos'è questo 666 qui noi proponiamo una lettura che ci è capitata noi abbiamo visto che nel libro Uno Re volendo descrivere la produzione di oro di Israele è stata quantificata in 666 talenti ora un talento è 50 chili ci è sembrato strano che questo questa produzione verrà il 666 600 talenti 660 ma il 6 è sospetto che quindi sia un qualche tipo di indicazione occulta per l'interpretazione che quindi a questo punto siccome questo era il peso dell'oro che veniva consegnato a Salomone che questo 666 significhi oro che è quindi perfettamente coerente con l'interpretazione quindi qui subentra il microchip perché ora vediamo che questo microchip potrebbe essere strategico per quello che segue ma questo microchip non l'abbiamo tirato fuori noi qui vediamo un sito per esempio in cui non si sa come quindi con queste canalizzazioni ecco diciamo così diamo il beneficio dell'onestà a questi che mandano messaggi quindi vengono canalizzati vengono messaggi che tutti saranno obbligati a mettere questi microchip e quindi chi non avrà questo microchip non potrà come un sistema per dare autentificare quindi una app qualcosa che tu passi ma questo già lo stiamo vedendo nei negozi amazon in giro per il mondo tu entri nel negozio prendi le cose e ti arriva il conto a casa non passi da nessuna cassa da nessun carrello niente proprio è tutto automatizzato già lo stiamo vedendo quindi è un'ipotesi verosimile ma vediamo invece perché servirebbe questa cosa perché abbiamo visto che nel video precedente che loro quando arrivano fanno un turno di lavoro sembrerebbe questi mille anni e diciamo questa fase prima di iniziare questo turno fanno una riduzione dell'operazione ma prima di questa riduzione guardate cosa succede e qui questo è un altro passo che non lascia dubbi che si tratta di operazioni tecnologiche Apocalisse 9 a 1 poi il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso lo aprì e ne uscì fumo come quello di una grande fornace dal fumo uscirono delle cavallette ecco per noi questa ha una chiara interpretazione da qualche parte c'è una fabbrica automatizzata ecco questo non l'abbiamo pensato nel film La guerra dei mondi si vede chiaramente che hanno preso spunto da questo passo quindi ci sarebbe una fabbrica sotterranea automatizzata in cui vengono prodotti queste cavallette ora vediamo che queste cavallette ora si capisce che non sono cavallette e quindi il fumo che cosa sarebbe è il residuo di tutta questa grande lavorazione che è durata chissà quanti secoli vediamo come erano queste cavallette l'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra sulla testa avevano delle corone d'oro quindi a noi parano elicotteri la loro faccia era come viso d'uomo anche qui qui per esempio Don Cruz non fa degli elicotteri però l'espirazione è questa avevano dei capelli come capelli di donna i loro denti erano come denti il leone qui si può dire un'interpretazione il loro torace era simile a una corazza di ferro il rumore delle loro ari era come quello di carri tirati da molte cavalli che corrono alla battaglia quindi motori avevano codi e pungiglioni come quelli dei scopori nelle code stava il potere di danneggiare gli uomini per cinque mesi e chi danneggiavano? quelli i cattivi qui vediamo effettuato loro di danneggiare l'erba di non danneggiare l'erba della terra nella verdura quindi non toccarono niente ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte quindi quelli che erano stati fuori da questa proposta economica quelli che avevano accettato la proposta economica quindi si erano messi questo sigillo non furono uccisi ma tormentarli per cinque mesi con un dolore simile a quello prodotto dalla scorpione quando pungi un uomo quindi il potere era negli scorpioni quindi Tom Cruise fa vedere queste probosciti che nel suo caso prendono gli uomini prelevano gli uomini perché in questo film li usano come concime ma noi diciamo che questa cosa non è totalmente diciamo fuori di senso quindi a questo punto cosa servirebbe questo microchip a rilevare la posizione di questi malcapitati che sarebbero i cattivi e perché diciamo questo perché poi questi cattivi quindi ci sarebbero i buoni che vanno nella miniera nel centro direzionale vicino a Yahweh quindi in sua compagnia invece i cattivi vengono tormentati ma noi diciamo tormentati o prelevati perché ci sarebbero degli indizi che in realtà sono prelevati e chi sarebbero sarebbero i nuovi schiavi del ciclo di minerazione che durerà mille anni e quindi alla fine dei mille anni sono anche un problema questi qua insomma ci ritroviamo questa massa di lavoratori che ne facciamo e guarda cosa studiamo li scagliamo contro i buoni quindi guardiamo cosa dice cosa succede quando i mille anni saranno trascorsi quindi hanno fatto il loro turno di lavoro qui ovviamente c'è di mezzo la religione Satana Satana uscirà e sedurrà le nazioni che sono i quattro angoli Gog e Margog poi vediamo anche questo Gog per radunare la battaglia il loro numero è come la sabbia del mare e salirono sulla superficie della terra quindi è gente che viene secondo noi da queste miniere dove hanno lavorato per mille anni e arrabbiati perché sono stati si dirigono contro i buoni che sarebbero nel quartier generale quindi assedono nel campo dei santi la città di Letta quindi la nuova Gerusalemme che è scesa dal cielo come tutta bella e pronta come dice l'Apocalisse però che succede vengono tutti concentrati in questo posto e un fuoco il distruttore arriva e fa piazza pulita quindi hanno sistemato le cose quindi questo secondo noi è il racconto di come prendono i candidati a lavorare nelle miniere sotterranee dopo mille anni saltano fuori li fanno scagliare arrabbiati verso Israele dove passa il distruttore Israele o il nuovo Israele perché non è chiaro dove sarà questo nuovo quartier generale e il distruttore provvederà a sistemarli e il distruttore è il distruttore